Assessore Russo, la Sicilia sta cambiando, venite a conoscere i colpevoli, in che senso? Se cambiare le cose è una colpa, è bene che i cittadini sappiano chi sono i colpevoli di un cambiamento che abbiamo avviato ormai da circa tre anni, sicuramente in sanità, ma non soltanto in questo settore che è il più delicato. C'era un momento che abbiamo scelto per confrontarci con i cittadini, peraltro ce l'hanno chiesto loro, ed è una richiesta di solidarietà, di confronto che nasce questo incontro, adesso arriverà il Presidente Lombardo e sarà un'occasione di democrazia partecipata, un botta e risposta con coloro che chiedono di sapere e che capiscono molto di più di quello che talvolta fanno comprendere i blog, la stampa o una informazione che certamente ci ha dipinto come il malo assoluto, quando invece noi abbiamo lavorato in maniera seria soltanto per tutelare gli interessi dei siciliani che sono colpiti in questo momento da una politica nazionale che rischia di avere effetti devastanti per la Sicilia e per il Sud. C'è chi dice che questo è come se fosse il suo battesimo politico? Ma guardi oggi lo chiarirò, il mio battesimo politico c'è stato esattamente quando ho detto sì al Presidente Lombardo bisogna essere chiari, quando si fanno scelte di alta responsabilità si diventa immediatamente politici io non sono mai stato un tecnico, forse sono stato il più politico tra i più politici però bisogna intendersi, politica intesa come servizio, come rispetto delle regole, come capacità di metterci la faccia assumersi la responsabilità per scelte talvolta impopolari che non guardano all'immediato consenso ma guardano all'interesse generale e allora sono un politico da vecchi tempi, sono il più anziano e non un tecnico. Altra questione è poi avere a che fare con i politici competenti beh questo è un altro problema ancora